Sì Sì Saba sicuro ne? Pirip sicuro oh Sì gano man Oh Uy Uy Sai ka boh ya Uy Kwan? Inada? Uy 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 Tos tumoy ragid Ha Sakto ragid oh Kabot Uy 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 Ah, come la mia, è l'abitico Ah, come la mia Come, come la mia, come la mia Come la mia, come la mia La mia, la mia grazie a tutti hola ah 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 ok 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 ah 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 wala ka lang na lalo mong kayo ang ihang sukod sa araw nga ba ah 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 sorry tak ah 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 siangato siangato pandawan 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 ah no gianchina sibuk ah ah pirit ah pirit 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 hmm hahaha ah kuhaan na ayun sige papugi ah putol pa na ron nawala man walain ba sa video sumpa naman naa naa lalom lang gandang imongkuan walak ang damang sibuk kaya morag gabok na inyong linya ba pirit ah gamayin na eh gamayin kayo na ayan ang sibuk marr pan 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 Sì, sì, sì. le linga no A qui? Oh, a qui? 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 Fai lì? Fai lì, da qui? Oh, ok. Sì, questo è qui? Sì, ok. Può che mi prende? C'è un problema. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.